GAMI! GAMI! GIOANI KUJINENI! Cosa pensate di questa settimana? Qual è il tuo tavolo principale per questa settimana? L'argete in Vakibangolo è sempre la stessa. Perciò venire così molte coppie che possiamo. E' normale. Sono molto fortunato che il club mi ha dato molti grandi giocatori. Abbiamo molto pressione, ma come dicevo, è un privilegio che ci deviamo. Perché siamo una squadra forte. Quindi vogliamo venire così molte coppie che vogliamo. E vogliamo continuare a crescere i nostri valori. Se il Vakibang è riuscita e riuscita, ciò che abbiamo riuscita, non solo sui grandi giocatori o tecniche, ma sui valori e comportamenti che abbiamo installato in tutti i giocatori che arrivano qui. Quindi questo anno abbiamo 7 nuovi giocatori, abbiamo alcuni nuovi membri del staff. Ho spero che tutti noi, tutti, abbiamo apprezzato la stessa valori e la stessa comportamentale. Il nostro progetto è di vincere 5 coppie in tutte le sezioni. Quindi noi abbiamo studiare molto molto, ciò che ci sono molto più attenzione. In realtà il nostro progetto è il nostro progetto è il nostro progetto è il nostro progetto di non so, come dicevo, un progetto è un progetto è un progetto. L'orchestra suona bene e gioca bene, quando tutti i membri dell'orchestra conoscono molto bene qual è la sua posizione e si accettano la sua posizione. In ogni orquestra c'è un solo violista e in ogni orquestra c'è un piccolo musicista che gioca in un momento in un piccolo triangolo, questo è un team. Se vogliamo vincere qualcosa, il team Vakipunk deve essere come un orquestra perché il team Vakipunk è molto bene, le loro due parole molto bene, tutto il team Vakipunko bene e gli altri e tutti questo team Vakipunko inizibili Join a tutti i amici, tutti amici da sera molto atrochemical. Bu sene yeni bir sezonun başlangıcında tekrardan burada hep birlikte sizlerleyiz. Ilk hedefimiz olacak Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçı. Umarım çok mutlu bir şekilde ilk hedefimizi tamamlayıp kupayı müzemize götürebiliriz. Çok yüksek kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Seyir zevkinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Karşı takımda yeni isimler var. Bizim takımımız da çok yeni. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. İlk performansımızı 11 Ekim'de Fenerbahçe'ye karşı göstereceğiz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ve çok mutlu döneriz evimize. Fenerbahçe'ye karşı karşılaştığınızı çok önemli değil. Ve ne düşündüğünüzü? Bu match'a nasıl hazırladığınızı? Gerçekten çok önemli bir match. Çünkü çok önemli bir match bu match. Bu match'ı hazırladığınızı. Bu Super Cup için Fenerbahçe'ye karşı karşılaştığınızı. Bu match'a çok iyi bir match'ı hazırlayabilir. Ama bunun için çok güçlü olmadığını düşünüyoruz. Ama bu match'a çok güçlü olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden çok iyi bir match'ı hazırlayacağız. Sono due giorni con la giocamera, prima di lavorare in questo momento. Ci sono molto molto spazio. Fenerbahce per il gioco è giusto, sono molto più attraverso e sono davvero buono. Ma ci sono molto attraverso e spero che ci siamo in questo campo. La nostra motivazione è stata diversa ma è stata diversa, ma abbiamo già già arrivato. Ma i ragazzi sono arrivati in questo momento, i stessi di lavorare a continuare. I ammbrati ogni anno, e i ragazzi sono molto belle attraverso il risultato. e non mi piacevole. Siamo dimenticare la vostra stessa. Ci siamo molto bene. Ci siamo molto amici. Ci sono davanti, ci siamo molto piaciuti. Ci sono molto amici, ci sono molto molto energia. Ci sono sempre sempre di loro. Ci siamo sempre di lavorare. Siamo ragazzi, ci siamo iniz. Ci siamo iniziali.